salve ragazzi vediamo ora come fare una media aritmetica semplice la media aritmetica si ottiene sommando tutti i dati che possiamo rilevare ovvero x1 più x2 più eccetera eccetera mettiamo che siano n diviso il numero dei dati ottenuti se per esempio abbiamo effettuato delle misure di massa su dei ragazzi antonio pesa 75 kg jacopo ne pesa 80 luigi 65 e mattia 72 la messa media si otterrà sommando tutti questi numeri 75 più 80 più 65 più 72 e dividendoli per il numero dei ragazzi cioè 4 il risultato sarà 73 kg